Ulteriori azioni anticrisi saranno inclusive. A Bruxelles vince la linea dell'Italia. I 27 trovano l'accordo per affrontare l'emergenza coronavirus dopo circa sei ore in teleconferenza. Nel testo non ci sarebbero riferimenti espliciti al fondo salvastati. Alla dichiarazione finale dei leader dell'Unione sarebbe stato aggiunto un paragrafo che dà ai governi due settimane di tempo per avanzare proposte per un'azione coordinata di bilancio. Il documento prevede che la Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio Europeo debbano presentare proposte di lungo periodo.